A Computex 2010 presentiamo anche il top di gamma della nostra serie G, la serie gaming, il modello in questione è il GT 660, è un notebook da 16 pollici basato su tecnologia Intel Core i7 e un sottosistema grafico Nvidia GeForce GTS 285 Mobile e una memoria di sistema fino a 12 GB DDR3. Lo storage è affidato a due dischi da 500 GB in configurazione RAID 0, questo per massimizzare le prestazioni. Ad aiutare i veri hardcore gamer abbiamo implementato una tecnologia proprietaria MSI che si chiama Turbo Drive Engine, questa tecnologia permette appunto di overclockare la scheda grafica e il processore fino al 16% in più del risultato di default, questo è proprio sviluppato per andare a portare le prestazioni della macchina ai massimi livelli. Uno dei punti di forza di questa macchina è proprio il sottosistema audio che è stato realizzato in collaborazione con Dynaudio, il famoso produttore di dispositivi Hi-Fi danese. Tutto lo chassis della macchina è stato disegnato proprio attorno alla creazione dei due altoparlanti che uniti al subwoofer appunto danno un suono straordinario. Solitamente l'attenzione degli altri vendor è sempre molto focalizzata sul sistema grafico, sulla macchina gaming. MSI ha voluto dare un aspetto più multimediale nella sua totalità a questa macchina appunto proprio grazie alla collaborazione con Dynaudio, come vi farò sentire tra poco infatti non solo la potenza ma la qualità del suono che esce dagli speaker del sistema 2.1 Dynaudio è veramente qualcosa di eccezionale. Come vedete poi abbiamo anche integrato dei pannelli a led luminosi che seguono appunto l'equalizzatore della macchina e che quindi danno un aspetto un po' più hardcore gamer a questa macchina.